Dopo la sospensiva del TAR, l'ordinanza fatta dalla Regione per il caso del coronavirus, siccome il TAR ha motivato perché al momento dell'ordinanza non erano segnalati i casi, a oggi i casi sono diventati sei di positivi nella nostra Regione, ho ritenuto opportuno farne una nuova ordinanza con nuove motivazioni, rafforzate dal fatto che ci sono stati questi casi, fino alle ore 24 di sabato, con le stesse indicazioni e misure dell'ordinanza precedente, venendo incontro anche a una scadenza che è quella che in generale applica alle altre Regioni per poi vedere il da farsi con l'evoluzione della situazione.